Una gara in bicicletta che si mescola ad una caccia al tesoro, o meglio ai tesori culturali della città. Sarà questa l'Allecat Race, l'iniziativa che domenica, dalla palla di Pomodoro, innescherà una corsa ciclistica guidata da una serie di indizi. Si tratta di un progetto inserito nella candidatura a Pesaro Capitale della Cultura 2024, una candidatura che non poteva non includere la sempre più diffusa cultura della bicicletta. Tiene insieme un po' di elementi cardine della nostra candidatura, innanzitutto l'idea di una cultura diffusa, diffusa nei luoghi, diffusa anche nelle modalità di fruizione. La bicicletta assieme alla sostenibilità in generale è un elemento forte della candidatura, del racconto, non solo per provare a vincere ma per rafforzare questi assi fondamentali della cultura cittadina. Quindi questa formula di Allecat che è sostanzialmente una sorta di cassa al tesoro in bicicletta che insomma toccherà tutti i vari luoghi della città. Sarà un Allecat Race con luoghi a sorpresa da scoprire attraverso gli indizi che emergeranno dall'iniziativa coordinata dalle associazioni periferica e cicloferica. Ad essere certi solo i punti di partenza e di arrivo, la palla di pomodoro alle 9, il centro pescheria alle 12 con tanto di premiazioni. I premi vanno dalla bici più originale al miglior outfit fino al primo premio di 5 biglietti per il malato immaginario, primo spettacolo della stagione di prosa 2022. È un percorso che si scopre solo il giorno della gara, noi daremo delle indicazioni sui luoghi da andare a scoprire, non c'è un ordine prestabilito quindi il partecipante sceglie in autonomia, che percorso svolgere a seconda di quali luoghi conosce meglio e il bello appunto è la sorpresa della giornata, quindi non è una corsa contro il tempo, è una sfida con se stessi per vedere se riconosce i luoghi. Quindi la cosa divertente e interessante appunto è questa, è che il fatto che non è una sfida atletica ma è una caccia al tesoro con degli indizi, quindi è divertente, è costruttiva, perché poi magari ci si copia tra i vari partecipanti, quindi è diversa di una gara sportiva, è una scoperta della città. Come si fa partecipare? Allora basta mandare una mail, c'è tutto nel portale di Pesaro 2024 e l'importante sarebbe soprattutto per i minori l'uso del casco, avere una bicicletta non c'è bisogno, una bicicletta professionale, va bene di qualunque tipo, anche senza marce e avere una fotocamera, quindi basta il cellulare e anche un cellulare che legge QR code, perché molti indizi, molte nozioni sui luoghi che andrete a scoprire si scopriranno attraverso un QR code.